Finalmente dopo due anni di circunnavigazione dell'Africa e dopo circa 10.000 miglie percorse siamo arrivati in Madagascar che rappresenta l'obiettivo principale di questo lungo viaggio e la nave adesso si trova ormeggiata nel porto di Majangà. Ci siamo fermati durante questi due anni, quattro volte per diversi mesi, la prima volta a Banjul in Gambia, dove siamo stati circa cinque mesi, abbiamo lavorato tantissimo, circa 3.000 prestazioni sanitarie sono state fatte lì tra interventi chirurgici, odontoiatici eccetera. Poi ci siamo fermati nella base navale di Tacoradi in Ghana, ben accolti dai militari, abbiamo lavorato un po' all'interno lì e poi nelle isole di Sao Tome e Principe, sono due isole a largo delle coste del Gabon nell'Oceano Atlantico, due isole che come tutte le isole necessitavano di particolari attenzioni perché sono un po' immarginate, ci hanno fatto richiesta di rimanere e anche lì per cinque mesi abbiamo svolto attività sanitaria intensamente. Un'ultima sosta è stata fatta in Angola, dove però contrariamente ai programmi già elaborati con le autorità locali, lì un paese che subisce molto l'influsso sovietico e quindi la burocrazia spessiante non ha permesso di andare molto avanti nei lavori e quindi poi siamo ripartiti per raggiungere il Madagascar. L'ultima tratta è stata fatta partendo un mese e mezzo fa dall'Obito in Angola. Ecco, lo staff medico chiaramente vi ha alternato perché siete tutti volontari, non solo trapanesi ma oramai Elps è un fenomeno nazionale. Sì, abbiamo tanti soci e tante disponibilità da parte di colleghi da tante parti d'Italia. Lo schema è sempre lo stesso, quando la nave arriva nel porto dove deve operare, dove c'è un accordo già stipulato, i medici partono via aerea, si congiungono alla nave, adoperando il loro tempo, la loro professionalità, prendendo le proprie ferie e caricandosi pure le spese di viaggio, di alloggio spesso, si mettono a disposizione dei vari programmi che di volta in volta vengono attuati.